Abbiamo qui niente poco di meno che Mr. Rivas, detto anche Mr. Universo. Mr. Rivas, io Rivas, Rivas, siamo quasi uguali, una S ci manca fra noi due, una S e poi siamo uguali. Mr. Rivas, you speak Italian? No. No. You prefer I speak English? No, è meglio parlare italiano. Uno studia tanto, poi arrivano questi, c'è meglio che parla italiano. Questa è proprio ingratitudine, io faccio degli sforzi. Lei è Ercole, è vero? Sì. Ercole, ha impersonato Ercole nel film Le Fatiche di Ercole. Prima, sì. Prima, sì. Adesso invece che cosa fa? Ercole, eh? Ho la regina di Lidia, è vero? Secondo episodio. Sì. Lei piega le sbarre di ferro, ammazza i leoni, sbutta giù i palazzi. Direttore Pietro Franceschi. A questo si è imparato in italiano, bravissimo. Molto bene Mr. Rivas. Mazzio e Fusto. Bello Mr. Rivas, eh? Grazie. Molto bello Mr. Rivas. Mr. Rivas, Mr. Rivas, please, please Mr. Rivas. Yes. Quanto è bello. È molto bello, però io l'ho visto sempre in pose tutte così. Oh, sì. Bello? Sì. Prego. Mr. Rivas, noi abbiamo un apparecchio speciale. Attenda, eh? Telescopia. Fa!